Giorgia Meloni compagno, Andrea Giambruno chi è, e cosa fa? Giorgia Meloni ha vinto le elezioni del 25 settembre, con il suo partito Fratelli d'Italia che è stato il più votato in assoluto. Per questo motivo ovviamente si inizia molto a parlare di lei, dato che in tutta probabilità avrà la responsabilità di governare per i prossimi cinque anni. Della sua vita privata si sa che attualmente sta con Andrea Giambruno, un volto poco conosciuto rispetto a quello della stessa Meloni. Su di lui, però, si conoscono dei dettagli sulla sua vita e lavoro. Giorgia Meloni, chi è e cosa fa il compagno Andrea Giambruno? Giorgia Meloni ha vinto le elezioni politiche e di conseguenza, al momento, è sotto i riflettori. Lo stesso vale per le persone che le sono più vicine, come il suo compagno Andrea Giambruno. Quest'ultimo non è molto conosciuto, ma in realtà è un volto che i telespettatori hanno sicuramente già visto in molte altre occasioni. Andrea e la Meloni hanno una relazione da sette anni. Non sono sposati e sono una coppia di fatto, convivono e hanno avuto una figlia, di nome Ginevra nel 2016. Giambruno è nato nel 1981 ed è originario di Milano, dove si è laureato in filosofia, presso l'Università La Cattolica. Andrea si è anche diplomato presso il Liceo di Monza. Attualmente è un noto giornalista televisivo ed è autore di diversi programmi andati in onda su Mediaset. Nel 2009, Andrea ha cominciato a prendere parte, a diversi programmi televisivi targati Mediaset, iniziando la sua carriera in questo senso. Giamburno prese parte a Quinta Colonna, Mattino 5 e tanti altri. Ancora oggi Andrea compare in televisione, ma è molto riservato e non ama rapportarsi al suo pubblico, attraverso i social. Nello specifico, infatti, ha soltanto un profilo Instagram, che però non utilizza praticamente mai. Per questo motivo è difficile ottenere informazioni, sulla sua vita di tutti i giorni, sui suoi interessi e sulle sue passioni, a parte quella per la politica e la qualità. Giorgia Meloni non ha mai fatto mistero, della sua relazione con Andrea Giambruno, che ancora oggi prosegue a gonfie vele. La Meloni lo ha anche ringraziato in occasione, della sua vittoria per le elezioni, insieme ad altre persone importanti nella sua vita, come la madre e la sorella. Nel corso di un'intervista rilasciata al testimone di PIF, il volto di Fratelli d'Italia aveva dichiarato che le cose con Andrea andavano molto bene. Allo stesso tempo, la Meloni aveva ironizzato spiegando che con Andrea, lei ha una sorta di nemico in casa, in quanto il suo compagno è di sinistra e non condivide gran parte delle sue idee. Giorgia ha ammesso che molte volte ci sono delle discussioni tra loro, su alcuni temi etici, sul matrimonio tra omosessuali e su tanti altri argomenti. Nonostante non siano spesso d'accordo, però, la Meloni ha spiegato che ritiene che Andrea si fidi di lei, e che perciò l'avrebbe votata alle elezioni. Gian Bruno, intanto, era finito al centro dell'attenzione del pubblico, nel febbraio 2021. All'epoca, infatti, Giovanni Gozzini, professore dell'Università di Siena, aveva attaccato pubblicamente la Meloni, con epiteti molto aggressivi, tra cui Scrofa. Gian Bruno prese quindi la parola pubblicamente, durante la rassegna stampa di TG con 24, difendendo la sua compagna, e parlando anche della figlia Ginevra. In quell'occasione Andrea dichiarò che ci sono anche dei minori, che leggono quelle cose e che lui si sarebbe occupato personalmente, di spiegare alla figlia, di quanto sia stata valorosa e meritevole sua madre nella vita. All'epoca, inoltre, il compagno di Giorgia Meloni dichiarò che di quelle parole, si sarebbe discusso nelle sedi opportune. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Andrea Gianbruno e vi piace questa coppia, oppure c'è qualcosa che non vi convince? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.